Io sono entrato in Ferragna grazie a dei cugini che già lavoravano in Ferragna, erano più di uno e quindi conoscevo la Ferragna molto bene in quanto era comunque l'azienda principe non solo della Valle Bormita ma io credo di tutta la Liguria, cioè un'eccellenza, la Ferragna la possiamo definire assolutamente un'eccellenza per la qualità della produzione che aveva e per la qualità dell'ambiente di lavoro che era poi quell'industria stessa. Io mi sono diplomato nel 1988 come perito meccanico e avevamo e abbiamo tuttora un'azienda agricola di famiglia nella quale io sono praticamente cresciuto, avendo comunque la vocazione per fare quel tipo di professione e non solo, anche la passione. Se non che la Valle Bormita era naturalmente una valle in quegli anni a grandissima vocazione industriale, vi erano molte industrie e naturalmente il reddito nel settore agricolo non era così garantito e comunque così importante come il reddito che si poteva portare a casa lavorando come dipendente nell'industria e quindi chiaramente è stata una scelta obbligata dal sistema di quel periodo. Vi erano più industrie come detto appunto, mi viene da pensare alla Ferragna stessa, alle vetrerie di Dego piuttosto che la Cochitalia, l'acna, le fonderie, vi era tutto un menù di Dede e poi ci vi erano naturalmente possibilità di lavoro all'interno del pubblico, Enel piuttosto che Enti, insomma in quegli anni il lavoro non mancava di certo. Ed ecco quindi che io con il diploma nel 1988 pur continuando a lavorare in azienda con la mia famiglia andai in un primo tempo a lavorare con i fratelli Sambin di Cairo Montenotte a Dego, in costruzioni metalmeccaniche dove ho svolto una mansione di metalmeccanico puro, poi chiaramente nelle imprese un attimino un po' più piccoline si fa di tutto, io non soltanto lavoravo in ufficina ma ho anche fatto dei periodi lavorando fuori e quindi facendo trasporti, una sorta di tutto fare, per così dire. E poi nel 1993 mi ricordo che in quegli anni la Ferragna aveva fatto un rinnovamento di personale dovuto naturalmente al raggiungimento dell'età pensionabile dei dipendenti in essere e quindi c'è stata l'opportunità come diplomato di entrare in Ferragna a fare i turni. Entrai come turnista al reparto A, scelsi di fare i turni con piacere poiché l'occupazione in turno mi permetteva naturalmente anche di poter continuare a mandare avanti l'azienda di casa. Allora, essendo stata una selezione abbastanza di massa, ricordo che ci siamo trovati in tanti, fu una selezione sicuramente molto impegnativa, ci eravamo trovati in tanti a fare una prima prova scritta, dopodiché chi otteneva un buon punteggio e oltre la prova scritta passava la prova orale e se superava le due prove naturalmente veniva assunto. Ricordo molto bene il giorno in cui entrammo in quella fabbrica, in quell'azienda a fare la prova scritta, era una sensazione molto particolare, molto bella, perché appunto Ferragna era la Ferragna, ecco una sintesi si può dire era la Ferragna e dice tutto. Ricordo poi quando feci la prova orale, una prova che era durata diverse ore, poiché venivamo intervistati da più soggetti che non erano altro che i capi reparto delle varie posizioni lavorative che noi avremmo poi potuto occupare. Ricordo la grandissima soddisfazione che provai quando mi avevano detto che avevo superato le prove e che di lì a poco mi avrebbero chiamato per andare a lavorare. Non sapevo ancora in quale reparto. La curiosità in quei giorni era proprio dire dove andrò, andrò al buio o meglio a luce controllata, per dirlo meglio, piuttosto che a luce bianca, in quanto evidentemente Ferragna lavorando su prodotti fotosensibili c'era l'opportunità, anche la possibilità di lavorare al buio. Ricordo il mio primo giorno di lavoro, quando avevo saputo che ero al reparto A, quindi al reparto supporto, al reparto di colata, laddove chiaramente già si lavorava a luce bianca e quindi uno era un attimino un po' più sollevato perché è chiaro che lavorare al buio lì per lì se non lo si conosce spaventa. In realtà poi mi è capitato di lavorare al buio non è niente di che, si lavorava assolutamente molto bene. Il primo giorno di lavoro è un po' come tutte le prime volte, le prime volte sono sempre belle. Quando poi è una prima volta in uno stabilimento, in un'azienda, che era un po' un posto ambito da tutti, ci si sentiva proprio dei veri e propri privilegiati. In realtà poi nel tempo, in itinere, avevamo avuto una conferma di essere effettivamente dei privilegiati. Nel reparto dove ero io avevamo avuto la fortuna di entrare nell'arco di 3-4 mesi, mi ricordo, mi sembra, 11 nuovi assunti, tutti giovani, tutti più o meno 21, 22, 23 anni. Si era creato anche un reparto veramente straordinario con delle amicizie solide, amicizie importanti che ancora oggi coltiviamo, ci vediamo, facciamo cena, ci frequentiamo. La forza di Ferragni a mio avviso era anche quella, oltre all'aspetto veramente puramente industriale e tecnico, aveva la capacità anche di creare degli ambienti unici che credo che oggi sia veramente difficile riuscire a creare o trovare da un'altra parte. Era un'idea molto particolare, era un'idea molto particolare perché prima, avendo lavorato comunque in un'azienda solida, seria, che in essere a tutt'oggi, era comunque un posto di lavoro. Ferragni era un salotto di lavoro, in effetti già soltanto la portineria con gli addetti alla portineria impostati in un certo modo, un ordine interno fantastico, una pulizia unica e lavoravamo con la tuta bianca naturalmente perché era un prodotto fotosensibile e quindi dovevi lavorare seguendo certi standard, dovevi lavorare seguendo un processo importante, qual era la forza di quello stabilimento? La forza di quello stabilimento è un po' la forza di un'industria e anche i giorni nostri, il processo, dove c'è un processo costruttivo c'è una forza. Se non c'è un processo costruttivo, un assemblaggio, un assemblaggio può essere delocalizzato dall'oggi al domani, un processo costruttivo è già difficilissimo progettarlo, è altrettanto difficile costruirlo nel momento in cui c'è il processo in essere, delocalizzarlo o spostarlo diventa veramente complicato, è quella la forza di un'industria che può ancora oggi dare lavoro e dire la sua sul mercato, mi viene da pensare, prima nelle interviste che abbiamo sentito, nelle testimonianze abbiamo sentito parlare di estrusore, l'estrusore che cos'era? Non era altro che un'apparecchiatura diciamo, che io poi conosco poco e stendo stato in un altro reparto, laddove più strati di emulsione venivano stesi su un film in movimento, questi strati erano dei liquidi che si sovrapponevano ma non si miscelavano, è una cosa che è spettacolare, noi stesso all'interno del nostro reparto producevamo il supporto triacetato, che cos'era il supporto triacetato, era la base della pellicola e un po' come il telaio di un'automobile, producevamo una marmellata che si chiamava collodio, questa marmellata previo filtrazioni, degasamenti eccetera perché doveva essere priva di bollicine di aria all'interno, veniva stesa su un nastro lungo 40 metri, un nastro d'acciaio lucidato a specchio, non poteva esserci nessuna impurità perché questo supporto la copiava naturalmente, un nastro lucidato a specchio lungo 80 metri, come detto 40 metri superiori, 40 metri inferiori, chiuso all'interno di una guaina naturalmente, quindi terminati gli 80 metri questo supporto largo 137 centimetri e spesso 120 micron, si staccava e iniziava un percorso all'interno dell'impianto su dei rulli che era lungo ben 700 metri, questa marmellata per così dire molto semplicemente dallo stato liquido passava in uno stato solido attraverso appunto un processo di essicamento e di lavorazione che andava in fondo all'impianto ad avvolgersi su un asse lungo 3000 metri, uno spessore di 120 micron con un limite di fiducia, ossia una differenza tra il punto più alto e il punto più basso di quel film di 0,8 micron. Ed era un processo che era stato un impianto che era stato progettato e costruito negli anni 80, voglio dire un impianto del genere già i giorni nostri sarebbe difficilissimo progettarlo, Ferragni produceva quello ed era soltanto la parte che io conosco perché purtroppo, dico purtroppo, ognuno di noi entrava nel suo reparto e lavorava e conosceva quella realtà limitata rispetto alle potenzialità straordinarie e quello che produceva quella fabbrica. Allora io sono entrato in 3M appunto nel 93 e come mansione naturalmente ero stato inquadrato come SOS, SOS, no che a me non è mai piaciuta come definizione perché il SOS che cos'era? Era il sostituto, no? Il SOS era il sostituto che faceva addestramento e chiaramente ho iniziato a fare addestramento in tutte le sale di reparto, ossia gli impastatori, gli impastatori dove la materia prima liquida e solida venivano impastate per poi essere filtrate e stoccate all'interno dei serbatoi per poi entrare all'interno del processo di colata laddove si andava effettivamente a produrre questo supporto con queste caratteristiche spettacolari e ho continuato per circa un anno e mezzo a sostituire, la mia posizione era sull'impianto quando tutti erano in turno, nel momento in cui mancava qualcuno io andavo a sostituire all'interno del mio turno da una parte o dall'altra e quindi poteva essere l'impianto di filtrazione piuttosto che l'impianto di colata, quindi il macchinista vero e proprio all'interno dell'impianto importante, piuttosto che la sala controllo, piuttosto che gli impastatori e ricordo che in quegli anni un po' anche mi spiacevano, dico cavoli a tutti hanno comunque dato una posizione e io invece continuo a girare in qua in là, non rendendomi conto che quella in realtà lavorativamente parlando era stata la mia fortuna, perché dopo 3 anni che ero a lavorare mi trovai nella condizione di poter diventare capoturno, in soli 3 anni di presenza in stabilimento, perché un capoturno andava in pensione, si sono trovati a dover incaricare un dipendente che avesse più o meno esperienza in tutte le sale e ecco che mi chiamarono, ricordo ancora, mi avevano chiesto se ero disponibile a fare un po' di tirocinio in orario normale, non più in turno, per diventare poi capoturno, quindi mi trovai anche in giovanissima età, 25-26 anni, 27, non ricordo più precisamente, ad essere capoturno in Ferragno. Ricordo molto bene il passaggio da 3M, laddove un'azienda straordinaria sotto tutti i punti di vista, un'azienda mi viene da pensare un po' un'azienda tipo la John Deere per rimanere al settore del quale faccio parte oggi, aziende che puntano alla vita del dipendente a tutto tondo, non soltanto a una vita lavorativa in quanto tale poi te ne vai a casa, ma anche tutto quello che è il contorno della vita del dipendente. La Ferragno, ricordo, aveva il tennis piuttosto che lo sci, piuttosto che tutta una serie di attività collaterali che comunque facevano gruppo e sappiamo tutti quanto è importante che il dipendente, che il personale non siano soltanto dei lavoratori, punto, ma che facciano parte di un gruppo, quasi come di una grande famiglia. Nel 1996 ci fu il passaggio e il il primo spin off, ma noi non eravamo secondo me ancora maturi, ancora in grado di capire che quel passaggio lì era l'inizio della fine. A posteriori oggi vedo che, poi soprattutto i giorni nostri con i chiari di luna che tirano, passatemi il termine, nel mondo del lavoro, quando si inizia a parlare di riorganizzazioni, di accorpamenti, di riduzioni, di snellire, per conto mio è l'anticamera della fine di quell'industria che va a fare quei ragionamenti. Ma il passaggio da 3 e Maymation non fu tanto, come dire, doloroso, in quanto cambiò la proprietà, ma per quanto riguarda il nostro lavoro non ci furono grossi cambiamenti. Il grosso cambiamento si iniziò a sentire quando avevano venduto la radio e quindi tutta la parte radiografica alla Kodak. Si narra che fu per una storia di spionaggio industriale, sono voci di corridoio, noi sinceramente a livelli comunque produttivi non possiamo sapere quelle cose. Si narra che per colpa di uno spionaggio industriale che ci fu a causa di una consulenza della quale Ferragna non aveva, a mio avviso, nessuna responsabilità, dicono in poche parole che Ferragna aveva chiesto consulenza a qualche tecnico americano che poi dopo in itinera avevano scoperto essere un ex dipendente Kodak. Chiaramente per un'incongruenza tra un ex dipendente di Kodak che viene a dare delle nozioni lavorative a un diretto concorrente, quello non era contemplato, ci fu un contenzioso, non mi ricordo, insomma, io dico quel poco che sapevamo noi, ed ecco che riuscirono a tamponare la situazione vendendo la parte radiografica a Kodak, per una cifra ingente, per una grossissima cifra molto maggiore di quanto fu poi la vendita della Ferragna stessa alla Schröder Venturer nel 99, soldi che però andarono in America, perché in quegli anni eravamo ancora i Mation, a Ferragna non era venuto nulla. Era evidente che allora i due filoni principali di produzione era fotografico e radiografico. Il radiografico è salute, quindi il medicale ha più valenza rispetto al fotografico che comunque era un fotografico amatoriale. Io ho sempre fatto parte del centro fotografico, per carità, e quindi quella fu una mazzata o comunque una botta pesante, passatemi il termine per lo stabilimento. Nel 99 quando appunto diventammo Ferragni e Magic Technologies parlavano anche di management by auto, ossia dei dirigenti azionisti, però ripeto sono tutte voci che non erano in arrivate di corridoio, come ai nostri livelli operai, io ero impiegato, va bene ma cambia poco, di fatto ero impiegato ma facevi turni, lavoravo in produzione. A noi le notizie arrivavano di decima mano e quindi ben poco noi sappiamo di quello. Di fatto ci fa un declino di quell'azienda che noi avevamo capito benissimo, in quanto ricordo che i primi anni lavorando su impianti che lavorano 24 ore al giorno a ciclo continuo, come c'era la fermata dell'impianto, tipo Formula 1, c'erano gli operai delle imprese pronti perché appena l'impianto era in sicurezza partivano a fare manutenzione, gli ultimi anni quando si fermava l'impianto non c'era nessuno, voglio dire ciascuno di noi se vuole tenere e utilizzare bene la propria automobile ogni tanto deve farci manutenzione, se non ci fa manutenzione sa benissimo che con l'automobile lì va finché non ti lascia per strada, quindi quello era un primo segno di un declino inarrestabile. Passiamo agli anni poi 2002-2003 quando l'impianto non girava più tutto l'anno, ma faceva dei periodi lunghi di fermata dove andavamo in prestito in altri reparti, per poi arrivare agli anni 2004-2005 in cui avevamo iniziato a fare cassa integrazione, arriviamo al 2004 in cui ci fu il fallimento, fino a 2003-2004 se ricordo bene e poi eravamo arrivati al 2005 in cui era diventata Ferragna Technologies ed era stata acquistata dalla Fintra, dall'allora Fintra che erano praticamente il gruppo Messina, Malacalza, Gambardella e Marcellino Gavio se non sbaglio. Poi ci fu una prima riduzione pesante di personale che andarono in cassa integrazione, nel 2006 avevamo lavorato tutto l'anno perché o nel nostro reparto piuttosto che in prestito, nel 2007 avevamo di nuovo proseguito con cassa integrazioni varie, nel 2008 altri mesi di cassa integrazione e qualche partenza spot così dell'impianto per poi arrivare al 3 marzo del 2009, ricordo il mio ultimo giorno di lavoro dove fermavamo l'impianto e sapevamo che non sarebbe più partito per poi fare due anni e mezzo di cassa integrazione per quanto mi riguarda e poi fermarmi in proprio a casa mia. Io credo che, lo voglio dire, su questo aspetto c'è tanto da dire, personalmente avevo la passione e la vocazione di mettermi in proprio e quindi tutto sommato mi è andata male, ma non così male perché ho avuto la possibilità e ci sto lavorando ancora oggi di far crescere la mia azienda. Credo che però la questione Faragna si potesse gestire anche diversamente, mi sembra strano che un'industria con quelle maestranze, con quella capacità intellettuale e non solo, sia andata a finire nel nulla così. È chiaro che oggi non possiamo più produrre rullini fotografici, però tra i vari abarcadabra di cui avevamo sentito parlare, avevamo sentito parlare dell'opportunità di fare una pellicola che veniva messa sui monitor dei computer piuttosto che sui monitor dei telefonini. Oggi tutti hanno lo smartphone. A mio avviso la possibilità di fare qualche cosa c'era. Chi ha mancato? Non lo so. Non so se è il gruppo dirigenziale piuttosto che la casamadre, piuttosto che chi? Non ho la capacità di capire quello. Certamente mi sento di dire che il gruppo sindacale in quella situazione ha veramente fatto acqua, ha veramente fatto ridere. Perdonatemi, il linguaggio terra a terra ma rende l'idea. che ci fu un declino all'interno di quell'azienda lo capivamo logicamente anche dai volumi di produzione che facevamo. Come ho detto prima, i primi anni il nostro impianto girava 24 ore al giorno su ciclo continuo tutto l'anno, tranne le varie fermate e programmate, però tutti i mesi l'impianto lavorava. Negli anni in cui lavoravamo 365 giorni l'anno, ricordo che noi avevamo una fetta di mercato mondiale di erulino fotografico pari al 3%. Quindi una fetta assolutamente irrisoria e lavoravamo tutto l'anno. Con il 1999 avevamo già iniziato a fine anno a fare mesi di fermata e quindi una riduzione di metri quadri che era, quando si viaggiava a regime, mi pare intorno ai 7 milioni e mezzo di metri quadri. Per poi andare man mano a ridurre con, nell'ultimo periodo di Ferragna, quindi parliamo di anni 2005-2006, un impianto che poteva lavorare circa 4 mesi l'anno. E gli altri restanti mesi si era o in prestito in altri reparti, tipo reparto di confezione LG, piuttosto che in cassa integrazione. Ricordo un aneddoto in relazione alla crisi di Ferragna, ai vari passaggi di proprietà della Ferragna stessa, ricordo un aneddoto del luglio 2005, quando si parlava di due possibili cordata di acquirenti dello stabilimento. Una possibile cordata era una cordata indiana mi sembra e la seconda cordata che era interessata all'acquisto della Ferragna era la cordata genovese, quindi gruppo Messina, Malacalza, Gambardella e Marcellino Gavio. Ricordo che una mattina nelle varie assemblee, perché in quegli anni veramente si facevano tantissime assemblee e manifestazioni anche giustamente, perché poi era doveroso tutelare il proprio posto di lavoro, ricordo che era il primo luglio quando non era ancora chiusa la vendita dello stabilimento, ricordo che ci fu un'assemblea alle 8 del mattino e tutti radunati di fronte ai delegati provinciali delle tre organizzazioni sindacali, ricordo che un segretario provinciale di un'organizzazione sindacale aveva detto che dobbiamo andare assolutamente a bloccare il Vispa e quindi a fare una manifestazione di massa, in quanto chi acquista lo stabilimento comunque ci impone 250 esuberi inaccettabili, questi esuberi noi non li possiamo accettare e quindi andiamo a fare una bella manifestazione, blocchiamo la strada statale al Vispa, chiediamo un incontro con il prefetto perché a noi questa cosa non va bene e allora partiamo tutti, andiamo a fare questo blocco, arriva il prefetto, si parlano con le varie organizzazioni sindacali e poi si aggiornano i lavori di quella manifestazione alle 3 del pomeriggio per un'altra assemblea. La cosa è semplicissima, ci si trovava tutti quanti insieme e poi si partì e c'erano parecchie persone perché c'erano state l'80% dei dipendenti, forse anche di più, in quegli anni la Ferragna aveva circa 800 dipendenti ancora, quindi non lo so ma 600 dipendenti c'erano tutti tranquillamente, tutti quanti a bloccare il Vispa, a bloccare la strada, poi ci furono svariati blocchi anche l'autostrada, ci furono varie manifestazioni di massa, nel 2004 ricordo a gennaio avevamo fatto ancora una manifestazione a Genova in via 20 settembre, avevamo fatto un corteo lungo via 20 settembre per poi andare in via Fieschi sotto dalla sede del Consiglio regionale, avevano chiesto un incontro con Biasioti, all'allora Presidente regionale c'erano state varie manifestazioni, quella nello specifico come dicevo, ricordo che appunto 8 del mattino, 250 esuberi inaccettabili, blocchiamo il Vispa, arriva il prefetto, si parlano, aggiorniamo l'assemblea alle 3 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio tutti in assemblea, lo stesso delegato provinciale che alle 8 del mattino ci sono 250 esuberi inaccettabili, alle 3 del pomeriggio abbiamo 250 esuberi da ricollocare, ricordo che ho guardato una persona e ho detto qua c'è qualche passaggio che mi sfugge, la chiusura della Ferragni è stata accompagnata e il traguardo che prima era inaccettabile, la volta dopo diventava accettabile, in 2 ore, in 6-7 ore, quello che prima era inaccettabile, alle 8 del mattino è inaccettabile, voglio dire alle 3 del pomeriggio è da ricollocare. Io non ho le conoscenze per poter dire, per poter comprendere certe strategie industriali a così altissimi livelli naturalmente, è chiaro che una proprietà che comunque non fa industria ma fa tutt'altro tipo di attività ti fa fare qualche domanda, ed erano le domande che ci facevamo noi tutti i dipendenti, c'era un interlocutore che comunque faceva industria, che era Vittorio Malacalza, Vittorio Malacalza faceva industria, si narra anche che Vittorio Malacalza volesse costruire un laminatoio a Ferragna, parliamo dell'anno del 2008, è chiaro che ripeto, sono tutte voci di corridoio che a noi arrivavano, noi non sedevamo assolutamente a quei tavoli, ci mancherebbe altro, è l'unico che probabilmente dicono avrebbe fatto industria, gli altri chiaramente sono nel settore della logistica e del navale, che a Ferragna ci potesse venire un retroporto che oggi non c'è ancora, ma che domani ci potrebbe essere, sì l'hanno sempre detto, parlavano di un inceneritore a Ferragna, in realtà non c'è un inceneritore, ma oggi c'è un biodigestore, quindi tutto sommato queste voci proprio così fuori dal mondo non lo erano, il fotovoltaico che hanno fatto è stato un'ottima idea, sicuramente tutto quello che si fa per dare del lavoro a mio avviso un'ottima idea, è chiaro che la debolezza di quell'azienda a mio avviso è che non ha un processo, come dicevo prima, è un assemblaggio, la forza è il processo, non c'è niente da fare, la forza è costruire, è creare, non mettere insieme e Ferragna creava, Ferragna dal nulla creava una fotografia, una lastra radiografica, da niente, da una materia prima, solida, liquida, da una lavorazione, da un impianto di abbattimento andava a creare solvente, recuperava, ma c'erano degli impianti straordinari di dentro, quella è stata una bugna, è stata una bugna pesante, è stata una bugna pesante che vediamo ancora oggi, in quanto tanti lavoratori non sono ancora ricollocati, ho una bugna sociale, ho un amico che io lo vedo in giro a bere e non lavora, quella è una bugna, è un problema che in passato si riusciva con un sistema Italia molto diverso a sistemare con gli amianti, con gli aiuti, con le mobilità lunghe, oggi non c'è nemmeno più quell'opportunità con altri lavori, ricollocando magari i lavoratori come è capitato prima di Ferragna e in Val Bormi e da magari nel pubblico, ma oggi non c'è più quell'opportunità lì e quindi chiaramente, poi voglio dire, parlando chiaramente e semplicemente, una persona di 50 anni non ha la capacità di apprendimento di un giovane di 20, non ha nemmeno più la voglia di mettersi a imparare da un'altra parte e di ricominciare da zero, un conte ha 20 anni dove tutto è vissuto con entusiasmo, perché davanti comunque c'è un avvenire, a 50 anni una persona dovrebbe essere come era in passato, assolutamente solida, sistemata, che va avanti, per carità con meriti, mica che uno a 50 anni non è più lucido, tutt'altro, per certi aspetti sia meglio a 50 anni che non a 20 sicuramente, però ricominciare un lavoro da zero a 50 anni con il sistema lavoro che c'è adesso, che parla di contretti a termine e tutto quanto è difficilissimo. Sì, io ci passo, io ci passo spesso, perché è comunque un bel ricordo, fa male, fa male vedere una… E' come andare a trovare un amico al cimitero, è come andare a trovare un amico al cimitero che non c'è più, però un amico a cui tu hai voluto tanto bene e ogni tanto devi andare a vederlo. Per quanto non ci passi in macchina, non ti fermi, mi piacerebbe farci un giro ancora dentro, a parte il fatto che il nostro impianto l'hanno distrutto, non c'è più, l'hanno smantellato, hanno smantellato praticamente tutto, tuttavia ho contatti ancora oggi con amici che sono rimasti dentro a lavorare, spesso vedo immagini e ancora foto che mi fanno vedere, tutto quanto e come ripeto c'è rimasto un affetto, un legame con quello stabilimento, perché quello stabilimento ci ha dato la possibilità al suo interno di crescere, di crescere lavorativamente parlando, ma soprattutto di crescere come persone, di coltivare delle amicizie, di aver creato veramente un gruppo straordinario e pensarla vuota mi fa veramente una grande malinconia. Al di là poi, come detto, di tutto il problema che ha creato intorno di povertà, di difficoltà. Io credo che Faragna ha avuto un ruolo cardine all'interno dell'economia e dell'immagine Val Bormidese. Altre aziende in difficoltà anche tutt'oggi fanno rumore, ma non fanno il rumore che ha fatto Faragna. Ai tempi d'oro lavorare a Faragna era sicuramente più ambito che non lavorare nel pubblico impiego. Tutti i dipendenti di Faragna hanno comunque comprato una casa, si sono costruiti una casa, hanno fatto delle risorse, detta molto semplicemente. Faragna pagava bene, Faragna ti dava tanto in termini di professionalità e non solo. Era un privilegio. Ma nel momento in cui ci si trova dall'oggi al domani senza un mestiere, senza uno stipendio, perché tu dall'oggi al domani sei senza uno stipendio, è una sensazione che è devastante. Grazie a tutti.